Ma se permette io vorrei dirle una cosa sulla finanziaria, visto che non mi hai interpellato prima. Beh, visto che comunque parliamo di case poi. Anche, perché la cosa interessante della finanziaria è che Paduan e Renzi dicono che bisogna dare uno shock all'economia e l'abolizione del limo e della tasi sulla prima casa dovrebbe essere una parte di questo shock. Io sono d'accordo sull'abolizione, ma la cosa divertente è che Renzi e Paduan trovano una soluzione a un problema che hanno creato loro. Perché per quanto gli italiani possano avere la memoria corta, tutti ricorderanno che la tassa sulla prima casa è stata introdotta da questo governo. reintrodotta da questo governo. E lo stesso vale, ad esempio, anche per il discorso del contante circolante. Noi sono, è un anno che diciamo che bisogna alzare la soglia, perché la soglia di soli 1000 euro per gli acquisti in contanti è troppo bassa e oggi Renzi, che aveva introdotto questo limite, ci viene a dire che possiamo alzare la 3000 e la presenta come una grande innovazione. Quindi ci fa piacere che Renzi abbia fatto marcia indietro, ma di fatto lo ha fatto. Non era il governo Letta che l'aveva introdotta? È stato prima il governo Monti, poi è stata prossima il governo Letta e da Renzi. Voi eravate sempre comunque all'opposizione. Noi siamo stati contrari, adesso Renzi in qualche modo ci dà ragione, quindi dà soluzioni a problemi che la sinistra ha creato in questo paese. Però mi viene la domanda.